Il sindaco di San Marcello Piteglio Luca Marmo ha fatto il punto sulla creazione della prima comunità di bosco della montagna pistoiese realizzata in sinergia dal comune, dal distretto forestale e dal Gammontagna Appennino. Un'idea che è divenuta realtà dopo tanti mesi di lavoro, con un solo fine, salvaguardare i boschi della montagna e renderli una risorsa per il territorio. Progetto che io personalmente, anche come amministrazione comunale e come Unione dei Comuni, ci portiamo dietro da diverso tempo. Gli ultimi anni sono stati dedicati prevalentemente a momenti di approfondimento, anche sostenuti dal punto di vista della ricerca da parte della Regione Toscana con lo strumento del PSR e diciamo ora siamo in una fase in cui abbiamo in mano le variabili fondamentali per costruire una progettualità vera. Il progetto sarà illustrato in tre incontri, il primo dei quali in 1 di 5 costo alle 21 all'Aia Grande di Piteglio. Accompagnati dal distretto rurale forestale della Montagna Pistoiese, dall'Unione dei Comuni e ovviamente con il coinvolgimento del Comune che rappresento, avviamo a partire dalla settimana prossima tre serate aperte a tutti, dove l'obiettivo è quello di stimolare da parte dei proprietari una convergenza dei fondi verso una massa critica maggiore, in maniera tale da darci l'opportunità di sviluppare un modello che possa combinare nel modo più virtuoso possibile le varie matrici produttive del bosco. Benefici che si vedranno a medio e lungo termine. Una cura maggiore delle proprietà boschive, quindi una maggiore bellezza, un reddito maggiore in tasca ai proprietari ovviamente e non ultimo un'attenzione alla tenuta del suolo che è sicuramente maggiore rispetto a quella che oggi ogni singolo proprietario può garantire. Grazie a tutti.